Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Forza e coraggio, insieme per non dimenticare lo slogan di queste magliette che vengono vendute a Pianello di Ostra per dare un ulteriore contributo alle popolazioni alluvionate. La vendita delle magliette è nata a scopo benefico. Logicamente l'idea è venuta da me e insieme a Alessandro Animali, insieme all'Assido, che è una stamperia qui della zona, Simone Durazzi, perché con la vendita di queste magliette dobbiamo tirare su per forza dei soldi per comprare delle cose a questa gente che non hanno più niente. Quante ne avete stampate e quanti soldi avete raccolto finora? Finora abbiamo stampato mille magliette e come raccolta siamo intorno ai 6.000 euro. Quanto mettete una maglietta o quanto chiedete eventualmente come contributo di solidarietà se uno lo vuole destinare a proprio piacimento? Allora, noi la maglietta viene 15 euro, il contributo è quello e 10 euro va alla popolazione perché il costo è 5 euro della maglietta, quindi questo è quello che abbiamo fatto. Se la vendita va così bene potete anche ipotizzare di stamparne altre? Io lo spero vivamente, da poterle stampare altre, in modo da dare ancora più aiuto a questa gente. Voi dopo come deciderete di distribuire l'aiuto? Questo adesso è da vedere, ci riuniremo come consiglio direttivo del gruppo sportivo e poi decideremo quello che in base al fabbisogno della popolazione comprarci frigoriferi, lavatrici, scaffali, tavoli, adesso in base a quello che hanno più urgenza e più bisogno. Grazie. Grazie.